I grandi araldi che hanno seminato e hanno aiutato a crescere le chiese nel mondo sono stati uomini coraggiosi di preghiera e umili. Nell'omelia della messa mattutina, Papa Francesco ha parlato della missionarietà della sposa del Signore in occasione della festa dei Santi Cirillo e Metodio. Sull'esempio dei patroni d'Europa è stato l'auspicio del pontefice ogni cristiano diventi autentico araldo del Vangelo, vero missionario, capace di proclamare la parola non come cosa propria ma con il coraggio e con la franchezza che viene da Dio. La parola di Dio non si può portare come una proposta, ma se ti piace, o come un'idea filosofica o morale, buona, ma tu puoi vivere così. È un'altra cosa. ha bisogno di essere proposta con questa franchezza, con quella forza perché la parola penetri, come dice lo stesso Paolo, fino alle ossa. la parola di Dio deve essere annunciata con questa franchezza, con questa forza, con coraggio. persona che non ha coraggio, coraggio spirituale, coraggio nel cuore, che non è innamorato di Gesù ed è lì viene il coraggio, no, dirà sì, qualche cosa interessante, qualche cosa morale, qualche cosa chi farà bene, chi farà bene, bene è filantropico, ma non c'è la parola di Dio. E questo è incapace, questa parola di formare il popolo di Dio, solo la parola di Dio, proclamata con questa franchezza, con questo coraggio, è capace di formare il popolo di Dio.